Due sono i protagonisti di questo brano, lo Spirito Santo e Simeone. Vediamo allora soprattutto alcune caratteristiche di questo uomo in cui è presente l'azione dello Spirito. Simeone è una persona che attende, sa che le cose autentiche di questa vita maturano nel tempo, non avvengono in un istante. Con sapere attendere, riconoscere che non tutto è opera nostra, ma che siamo chiamati ad attendere l'azione di qualcuno. Don Tonino Bello in suo libro diceva che attendere è l'infinito del verbo amare, o forse addirittura è amare all'infinito. L'attesa di Simeone è davvero un'attesa piena d'amore, perché la sua attesa non è tanto l'attesa di qualcosa, ma di qualcuno. Inoltre Simeone è una persona che ascolta, che ascolta l'azione dello Spirito, che gli preannuncia alcune cose. Ecco, Simeone non pretende di sapere già tutto, ed è lo stesso Spirito che lo muove a recarsi al Tempio. Inoltre Simeone è una persona che accoglie, si reca al Tempio non a ritirare un premio per i suoi meriti, ma ad accogliere un dono, anzi ad accogliere l'amore che si dona, ad accogliere quel Dio che si è fatto carne in un bambino. E infine Simeone benedice. Ecco, quel bene che riconosce lo so anche dire. Benedice il Signore. Ecco, non stringe quel dono tra le sue mani, ma in quel dono riconosce l'amore del Signore, dato una volta per sempre. Attendere, ascoltare, accogliere, benedire. Quattro azioni che rivelano una vita compiuta e riconciliata. Chiediamo allora al Signore di poter ripetere la preghiera di Simeone, quella che ripetiamo ad ogni compieta, con il cuore stesso di Simeone. Buona preghiera. Grazie.